Buongiorno a tutti i miei cari spettatori di Tech TV. Oggi siamo qui con una recensione molto speciale, il Funet 16 pollici PC portatile. Questo notebook da gioco è dotato di caratteristiche eccezionali, tra cui un processore i712700H, un display 2.5k da 60Hz, 16GB di RAM e molte altre sorprese. Ma prima di addentrarci nei dettagli, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime recensioni di prodotti tecnologici. Se siete interessati al prodotto, possiamo acquistarlo con uno sconto tramite il link sopraindicato, grazie. Cominciamo con l'aspetto e il design del Funet 16 pollici PC portatile. Questo laptop ha una costruzione solida e un aspetto moderno con una finitura elegante. La tastiera retroilluminata offre un'ottima esperienza di digitazione, e il touchpad è reattivo e preciso. La portabilità è garantita dal suo peso leggero e dalle dimensioni contenute. Inoltre, è dotato di porte HDMI, USB 3.0 e supporta il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2 per una connettività avanzata. Il cuore di questo laptop è il processore i712700H, che offre prestazioni eccezionali per il gaming e le attività multitasking. La GPU dedicata garantisce una grafica fluida e dettagliata. Con 16 GB di RAM e un veloce SSD da 512 GB, avrete spazio e potenza sufficienti per eseguire le vostre applicazioni e giochi preferiti senza problemi. Ho avuto modo di testare alcuni giochi su questo laptop, e devo dire che è stato un'esperienza straordinaria. Il display da 16 pollici con risoluzione 2.5K e refresh rate di 60 Hz offre un'ottima qualità dell'immagine. I colori sono vividi, e l'IPS garantisce angoli di visione ampi e una buona luminosità. Che si tratti di gaming, streaming video o lavoro, questo display si comporta in modo eccellente in ogni situazione. Il Funet 16 pollici PC portatile viene fornito con Windows 11 Pro preinstallato, che offre una piattaforma stabile e ricca di funzionalità per le vostre esigenze quotidiane. In conclusione, il Funet 16 pollici PC portatile è un laptop da gioco di alta qualità che offre un'esperienza di gioco e di utilizzo straordinaria. Con un processore potente, un display di alta qualità e un design elegante, è una scelta eccellente per chi cerca un laptop performante. Tuttavia, tenete presente che potrebbe non essere la scelta migliore per chi cerca un laptop estremamente leggero e ultra portatile. Grazie per averci seguito in questa recensione. Se avete domande o commenti, non esitate a scriverli nella sezione commenti sotto a questo video. Non dimenticate di mettere un like se questa recensione vi è stata utile e di condividere il video con i vostri amici. A presto su TechTV!